Manifestazione degli studenti del Da Vinci qui alle nostre spalle, state andando in provincia, perché manifestate? Sì, stiamo manifestando per dimostrare a tutta la cittadinanza un disagio che viviamo da tempo. Fino ad ora abbiamo dato fiducia alle istituzioni, ma la fiducia è stata negata, solo promesse non rispettate e quindi adesso vogliamo riprenderci una sede per i nostri ragazzi di Porta Nuova. Vogliamo un attimo spiegare qual è il problema? Allora, i ragazzi attualmente sono ospitati al liceo classico, ma loro non hanno una sede fissa. Ospitati quindi non hanno le condizioni per fare scuola, non hanno aule piccole. Ringraziamo il classico che è stato veramente generoso a metterci a disposizione la loro scuola, ma noi vogliamo un'identità, noi siamo il liceo scientifico Leonardo Da Vinci e vogliamo rimanerlo. Fino all'anno scorso eravate ospitati nei locali di Viale Vespucci? Sì, eravamo nei locali di Viale Vespucci da ormai sette anni, dove la provincia pagava un affitto. Dopodiché l'affitto non è stato più possibile pagarlo e quindi ci avevano detto che ci spostavano a Piazza Grue già dall'anno scorso, ma l'anno scorso invece è stata occupata dai ragazzi e dall'alberghiero per un problema tecnico nella loro scuola. Quante sono le classi interessate da questo problema? Quanti studenti? Allora, noi siamo 250 studenti e quindi 10 classi, più le aule dei professori e i servizi igienici.